ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi un altro tutorial veloce veloce andiamo di modifiche diamo qualche taglio qualche sonoff vi faccio vedere nello specifico come modificare proprio fisicamente il basic r3 è l'ultima versione del basic che c'è adesso in commercio vi faccio vedere come fare la modifica per isolare l'uscita dalla fase del neutro ma prima di andare avanti mi raccomando iscrivetevi al canale grazie ok vi faccio vedere questa modifica è semplicissima come al solito bisogna avere un dremel un trampolino qualcosa per tagliare vi lascio in descrizione sia il link del dremel quello che uso io sia di quelli un po più economici ma sempre dremel che io consiglio e anche di qualche trapanino che costa ancora meno e per fare uno due tagli ogni tanto va benissimo perché modificare un basic perché il basic va benissimo per fare magari un apri porta un cancelletto il comando di un'automazione del box di qualsiasi cosa per la quale abbiamo bisogno di un contatto pulito quindi senza tensioni senza fase senza neutro senza nessun altro tipo di tensioni oppure se dobbiamo usare il basic per alimentarlo sia due venti ma non per avere fase neutro in uscita cosa che ha in origine ma per avere il contatto di chiusura di un passaggio magari di un 12 volt per pilotare direttamente un elettro serratura vi faccio vedere un po tutto andiamo col tutorial ok prima di tutto lo apriamo questa è l'apertura normale per fare i collegamenti ma noi dobbiamo proprio tirare fuori la scheda quindi due viti a croce posteriori non perdetele perché sono molto molto piccole viene via la base e viene via la copertura ecco qua il basic r3 ok se analizziamo le piste sotto qui abbiamo l'ingresso neutro e fase qui abbiamo l'uscita neutro e fase se controlliamo un neutro praticamente è una pista unica che va direttamente al morsetto di uscita e la fase che questo piedino qua vedete l oltre ad andare alla prima resistenza questa che poi alimenta tutto il resto passa dal contatto del relais che è questo qui quindi passa dal contatto e porta la fase direttamente in uscita a noi cosa dobbiamo fare dobbiamo isolare la fase dal piedino al contatto del relais quindi dovremmo fare un taglio qua poi dobbiamo tagliare il neutro qui per non portarlo più al piedino e fare un pezzo di collegamento con un filo da qua a qua in questo modo andiamo a far sì che il relais chiuda solo il contatto del morsetto in uscita ora vi faccio vedere come bene quindi facciamo prima un taglietto qua e poi un taglietto qua in questo modo vedete che abbiamo proprio tagliato deve vedersi sotto in questo modo non c'è più continuità stessa cosa deve succedere qui io ho provato a fare prima un taglio leggero ma bisogna passare il layout in questo modo quindi abbiamo passato il layout qua e abbiamo passato il layout qua dovete vedere attraverso sia in questo taglio che in questo prendiamo un pezzo di filo qualsiasi noi dobbiamo coprire questa misura quindi da qua a qua lo speriamo anche un po più lungo poi vi spiegherò perché la sezione non è importante trattandosi di un contatto stagniamo tutta la parte spelata come vi ho usare le dita in questo modo vi aiuterà in tutti i lavori di saldatura in generale ok noi dobbiamo collegare esattamente da qua a qua quindi dal piedino del relais dove abbiamo fatto il taglio alla pista che va poi al morsetto bagniamo quindi un po il piedino del relais e questa parte della pista ok ora conviene girarlo al contrario così siamo più comodi diamo una bella punta di stagno qua ok mi raccomando che non vada oltre il taglio e diamo poi una bella stagnata qua e voilà tagliamo la parte in eccesso taglio filatura taglio in questo modo abbiamo stabilito il contatto pulito e abbiamo isolato il relais dalla fase in ingresso ora proviamolo ok alimentiamolo vedete che in modalità accoppiamento due lampeggi veloci uno lento andiamo nella nostra app we link aggiungiamo un dispositivo accoppiamento rapido un dispositivo ok wifi andiamo avanti basic r3 trovato trovato anche già dall'assistente di amazon lo mettiamo in taverna completato vedete che abbiamo qui basic r3 possiamo accenderlo e spegnerlo regolarmente ovviamente funziona anche il pulsante vedete che risponde ora cosa succederà in uscita prendiamo il multimetro lo impostiamo in modalità di continuità ci puntiamo qua sulle due viti vedete che suona perché si chiude il contatto quindi in questo modo abbiamo il contatto pulito ora dopo averlo disalimentato lo rimontiamo un secondo per rimontare nella basetta non potete sbagliare perché entra in un verso solo rimettiamo poi il coperchio che anche questo entra in un verso solo dove c'è il pulsantino quindi pulsantino deve entrare nel buco possiamo chiudere le due vitine ed eccolo qua ora lo rialimento ovviamente se dobbiamo usarlo come apri porta quindi per dare un impulso a un elettro serratura dobbiamo andare qui nelle impostazioni del basic andare in impostazioni di inching e dare un inching di quello che può essere il minimo impostabile che 0 5 secondi lo salviamo lui in questo modo quando diamo il comando vedete che si attiva per 0 5 secondi quindi da solo un impulso vi faccio vedere velocemente come gestire il comando vocale con amazon se noi andiamo in tutti i dispositivi ovviamente avremo un dispositivo che si chiama basic r3 che risponderà a questo comando accendi basic r3 vedete che ha dato l'impulso se noi vogliamo usare questo basic r3 ad esempio per aprire un cancelletto quando diamo l'impulso anziché dare il comando accendi basic r3 noi dobbiamo creare una routine quindi andiamo qua in altro routine ne creiamo una nuova diamo un nome portoncino il comando questo accade quando con la voce diciamo apri portoncino andiamo avanti cosa deve fare aggiungi un'azione casa intelligente tutti i dispositivi basic r3 on diamo avanti salva e noi abbiamo creato una routine che si chiama apri portoncino apri portoncino è meglio no ora lo spengo un secondo vi faccio vedere che questa operazione è comunque reversibile perché se noi diamo una fase in ingresso sul contatto prendiamo la lampadina e colleghiamo la fase al nostro contatto pulito ovviamente diamo un neutro diretto rialimentiamo il nostro sonoff noi abbiamo una fase in uscita che va a pilotare direttamente il nostro carico che in questo caso per esempio è una lampadina prendiamo il nostro basic r3 che si è già connesso vedete che accendiamo la lampadina ovviamente adesso non sta accesa perché avevamo impostato lynching basta toglierlo e noi abbiamo un comando classico se per qualsiasi motivo avete bisogno di interrompere e simulare un neutro basta portare al contatto un neutro la stessa cosa se dobbiamo gestire magari non un contatto ma una tensione diretta ad esempio su un elettroserratura basta portare al contatto il più 12 farlo uscire e andare direttamente all'elettroserratura come in questo semplice schemino che vi faccio vedere la serigrafia qui n e l input rimane come ciliegina sulla torta possiamo denominare l'uscita come contatto un'altra modifica l'abbiamo fatta funziona tutto perfetto avete visto che non è difficile chiaramente oltre al tremel ci va anche un saldatore per fare qualche saldatura veloce ma anche di quello vi lascio qualche link da spendere poco e averlo il giorno dopo io come al solito vi ringrazio se vi è piaciuto il video mi raccomando spolliciate un bel like vi ricordo di iscrivervi al canale telegram solo per i contenuti e i video che pubblico oppure i miei consigli nella pagina massi dattoli tech solution su amazon grazie ancora ci vediamo in una diretta del giovedì o al prossimo video ciao da massi dattoli ciao 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 ciao